Ciao ragazzi, siccome oggi è carnevale, ho deciso di mostrarvi una mia creazione. Ed eccola qui! Come ho fatto a creare questo casco secondo voi? Beh, guardate sulla descrizione, potete scaricare il materiale che vi serve per farlo. Questo personaggio si chiama Kamen Rider. Effettivamente ci ho speso parecchio tempo per realizzarlo qualche tempo fa. Ho dovuto tagliare e incollare parecchio. Insomma, è stata dura ma credo che ne sia varsa la pena.